amici di alex carson benvenuti benvenuti oggi video molto diverso dal solito ma secondo me meritava la giusta recensione e i w revolution appena finito di vederlo sono le ore 12 del 6 marzo quindi adesso andiamo a vedere insomma che è successo se lo dovete ancora vedere ragazzi questo è spoiler quindi assolutamente non guardate questo video magari guardatelo quando avete visto i w revolution e ditemi se siete d'accordo con me allora da dove iniziamo da dove iniziamo da dove iniziamo ma andiamo un po per cronologia dai iniziamo con una valutazione generale buon pay per view facciamo una piccola premessa leggevo da più parti che forse era il pay per view con meno hype in assoluto si sono d'accordo sono d'accordo che abbia avuto meno hype ma forse a meno hype perché un po perché le storyline raffazzonate alcune un po perché comunque la iw sta perdendo la sua dimensione di novità eravamo abituati negli ultimi tre anni che ogni pay per view poteva esserci un nuovo debutto un nuovo un nuovo free agent magari proveniente da wwe mi ricordo quando debuttarono brian danielson e adam cole nello stesso nello stesso istante adesso la situazione è diversa ed è chiaro che grossi free agent interessanti nel panorama del wrestling non ce ne sono quindi ognuno fa con quello che ritiene più opportuno forse i free agent migliori sono forse da reperire dalla new japan pro wrestling allo stato attuale però naturalmente noi siamo qui a divuagare non sappiamo le dinamiche che contratuali che ci sono dietro appunto per i vari wrestling quindi ecco forse perché lei w ha avuto meno hype in questo pay per view è altrettanto vero che c'è stata una difficoltà di vendita dei biglietti e questo non è di poco conto mi pare che hanno dovuto abbassare il prezzo dei biglietti alla fine mi pare che comunque l'esaurito probabilmente a san francisco lo hanno fatto quello che però sta un po coinvolgendo la iw il fatto che scelgano arene sempre più piccole dove esibirsi quindi sicuramente la loro dimensione di novità è un po calata giustamente si devono assestare ed eccolo che devono trovare nuovo materiale interessante per poter riattirare il pubblico perché in un certo senso alcuni stanno dicendo sì però adesso è un po ripetitiva assolutamente sì è chiaro che la iw io cerca di fare le cose in maniera diversa rispetto alla wwe per quanto riguarda più wrestling e meno lottato e meno storyline per altrettanto vero che se non costruisci dei personaggi non potrai mai comunque dei personaggi delle dei background di storytelling dietro ogni personaggio è chiaro che il wrestling e soprattutto raccontare storie no ed è chiaro che viene un po meno anche tutto l'interesse che c'è all'interno della federazione comunque queste sono tutte supposizioni noi non sappiamo poi dietro quale storie a medio lungo periodo sta gestendo la iw quello che è certo che però le storyline sono venute fuori nell'ultimo periodo ad iniziare dai titoli trios ad iniziare anche lo stesso ritorno di wordlow io avrei piuttosto preferito powerhouse ops contro samuel joe però va bene così queste sono tutte comunque mie supposizioni e mie opinioni tutto sommato comunque facendo una valutazione generale e w io darei un bel set è stato un bel pay per più forse anche un 7 e mezzo dai un 7 e mezzo bello il match d'apertura tra ricky starks e chris gerico naturalmente sappiamo benissimo che la funzione ora di chris gerico non è quella di vincersi i titoli ma di mandare over i talenti all'interno della iw esattamente come ha fatto christian con jungle boy bel match anche se mi ha ricordato quei casket match che adesso non ha più senso fare tutto lì aveva aveva senso farli quando c'erano personaggi come undertaker nel mondo del wrestling adesso o eventualmente darby allen che allo stato attuale è irreperibile non lo vediamo da un bel po però è stato un buon match per decretare la parola fine a quella rivalità che secondo me si stava trascinando un po troppo complice anche l'infortunio di christian e comunque dare a gol boy nuova linfa soprattutto per quanto riguarda il suo personaggio trios non è anche qui è rappresentato trio championship bel match riesco a definire poco comunque la dimensione del trio championship perché mi sa tanto da indie mi sa tanto da federazione che vuole fare troppo la indie in un certo senso ce l'aveva la ring of honor e avere troppi titoli mi rifaccio a una dichiarazione di jim ross avere troppi titoli interna una federazione si rischia di farli perdere un po il blasone e il trio championship per il momento bisogna un po elevarlo il cambio di titolo sicuramente darà l'infa vitale a questa divisione trios il match è stato ottimo e anzi il pubblico ha gradito il cambio di titolo e quindi sicuramente la house of black se li ha meritati perché giustamente sono tre grandi lottatori è altrettanto vero che non vorrei che dietro il cambio di titolo ci siano anche possibili motivazioni legate ai contratti degli young bucks e di kenny omega sappiamo benissimo come sembra che la wwe li abbia contattati ci sia una sorta di trattativa sotterranea ma dubito che possano lasciare qualcosa che loro hanno contribuito a creare che si chiama elite ed è un certo senso il loro giocattolo sarebbe veramente bizzarro che soprattutto loro tre mollassero la aw perché non avrebbe più senso che la aw esistesse quindi o magari con ruoli più da backstage o con ruoli più on tv è chiaro che comunque la elite deve esserci sempre match tra samozio e warlow interessante ma non mi ha trasmesso nulla di particolare invece io che non sono fan dei match femminili questa volta il match femminile è stato da veramente da prima pagina come dico io soprattutto per tutto il cambio di atteggiamento di ruby so alla fine e di fatto trasformando jamie enter e brit baker nelle face e questo è stato secondo me finalmente sulla divisione femminile qualcosa si è mosso per creare qualcosa di interessante hangman adam page john moxley e allora io opinioni contrastanti perché da una parte è stato un match eccezionale dall'altra al tempo stesso sono stanco di questi match in stile combat zone wrestling perché penso che il mondo del wrestling non ne abbia più bisogno è tutto lì ok che ai john moxley stella dell'hard core e tutto il resto ma queste cose andavano bene non so vent'anni fa quando avevi mic paul e steve austin rob van damme insomma gente che era passata per la icw adesso hai solo john moxley che ha fatto quel tipo di percorso gli altri no tutto sommato il match veramente stato cruento è stato ottimo è stato pericoloso per certi aspetti ma alla fine insomma forse la iw dovrebbe considerare nuove tipologie di match e lasciar perdere tavoli filo spinato queste sono robe da combat zone wrestling da federazioni giapponesi estreme non certamente da iw ma tutto era costruito attorno al main event mjf contro brian brian danielson tra l'altro il finale è stato perfetto perché naturalmente quando finiscono a pareggio a me è venuto in mente il wrestling mania quella famoso finale sean michaels brett hart e infatti c'è stato lo stesso identico finale quindi alla sudden death con la vittoria di mjf naturalmente non poteva essere una vittoria proprio pulita però se andiamo a considerare tutto il match in generale io posso dire che mjf non solo ha rischiato di uscire dal personaggio in un in un paio di circostanze soprattutto a contatto col pubblico lui che è sempre dentro il personaggio e fa capire la professionalità ma soprattutto è stato un gran match cioè mjf secondo me si conquista definitivamente la fama di pro wrestler tanti ne hanno sempre dubitato la loro la sua capacità in ring ma questo match è stato costruito perfettamente tra loro due 60 minuti di match non è facile farli non è facile inventarsi anzi più di 60 minuti non è facile inventarsi 65 minuti di match in tutto quello che è successo il match è partito molto piano ed è andato sempre più su sempre più su e giustamente ha avuto il finale un finale giusto secondo me e giustamente brian danielson ha ceduto un po lo scettro da pro wrestler ad mjf cioè mjf veramente ha dimostrato di saper tenere il ring di sapere fa di saper fare tante cose sul ring al di là di tutto il personaggio che lui si è costruito intorno alcuni si aspettavano l'arrivo di cm punk ma sembra che cm punk stiano provando a ricucire lo strappo ma dubito che torni nel mondo del wrestling considerazione finale alla fine cioè si può dire che è stato il pay per view forse appunto come ho detto all'inizio meno atteso ma che ha lasciato una bella sensazione del tipo è stato un ottimo pay per view soprattutto il match finale il match il main event è stato costruito perfettamente e tutto il pay per view è ruotato alla fine attorno al main event dando match di buon livello e vedremo adesso dave melzer se riuscirà vedremo quante stelle darà appunto dave melzer a mjf contro brian danielson un'ultima considerazione su mjf naturalmente mjf sembra che alla fine del match nel backstage si è arrivato proprio stremato non se la faceva più è stato portato tipo a peso negli spogliatoi questa è una cosa che ho letto però è ancora da confermare comunque queste sono le mie considerazioni quando avete visto i w revolution ditemi le vostre tra i commenti e me ne aspetto naturalmente e soprattutto ditemi se la iw dopo revolution secondo voi ne trova nuova linfa oppure continua a stare in quelle acque agitate che tengono la iw da un anno a questa parte cioè un iw senza una direzione precisa che sembra navighi un po nel vuoto sembra che navighi a vista in un certo senso senza avere dei piani a medio lungo termine la mia impressione è questa però spero non sia così perché comunque una bella alternativa la wwe che sta costruendo naturalmente il wrestling mania forse anche l'interesse per revolution era sceso un po proprio perché la road to wrestling mania è iniziata e tra un mese arriva il super bowl del wrestling e quindi dolenti o nolenti lo andremo a guardare tutti ragazzi grazie di avermi seguito un abbraccio fortissimo e ciao a tutti ciao